Oggi alle cucine sono entrati Tanti bambini con le loro famiglie Che ci hanno aiutato ad abbellire il nostro albero di Natale Un albero poi che ci è stato anche regalato Da una ragazza che era venuta qua a fare attività di volontariato E ha scelto di regalarci il suo albero di Natale Quindi ringraziamo per questo gesto gentile E ringraziamo anche tutti i bambini che ci hanno aiutato E hanno preparato questi adobbi Quindi hanno fatto un gesto gentile nei nostri confronti Il mio augurio è questo Che impariamo a fare gesti gentili Che può essere quello di adobbare un albero Che può essere quello di salutare qualcuno Che può essere quello di ricordarsi A fare una telefonata A mandare un biglietto A ricordarci delle persone Quindi auguriamoci che sia un Natale Pieno di gesti gentili Verso le persone che frequentiamo Verso i nostri amici Verso i nostri parenti Che magari ci dimentichiamo tante volte Buon Natale a tutti Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille